Sono appena rientrato a casa, dopo aver trascorso praticamente tutta la mattinata da un ufficio dei carabinieri all'altro. Scusate, sono un po' nervoso, ma capite un po' la situazione. Mi hanno accerato il telefono, ok? Mi hanno rubato delle mie foto personali, abbiamo fatto anche già la denuncia ai carabinieri, ho fatto già tutto, meno male che mi hanno aiutato loro. È assurdo come ancora nel 2022 si usi fare questa cosa, di rubare le foto e poi rivenderle a dei giornali, giornali web che le hanno messe sulla prima pagina, sulla loro prima pagina, non sapendo io che ho denunciato. Non faccio neppure il nome di quel giornale web perché gli darei solamente visibilità, tanto uscirà sicuramente anche nei telegiornali, ne sono più che sicuro. Ho tanto di quel nervoso adesso che spero che questa denuncia vada veramente fino in fondo. Assurda la cattiveria delle persone. Ora vi faccio pure vedere la foto perché così almeno ci credete pure voi.